Ultima chiamata per l'approvazione del bilancio 2013 al Comune di Pescara. A dare l'ultimatum all'intero Consiglio è una lettera inviata a tutti i componenti dei gruppi dal prefetto di Pescara che avverte termine ultimo per l'approvazione del documento venerdì 1 agosto e così nel mare delle polemiche dei revisori dei conti che hanno bocciato il documento prodotto con cifre e conti ci si mette anche l'opposizione. I grillini dicono vogliamo avere chiare le cifre del debito e con la fretta di votare oggi si decide del futuro dei cittadini e ancora di più delle loro tasche. Le conseguenze, già se ne parla in Commissione Finanze, sono quelle di aumentare al massimo le aliquote e quindi saranno come sempre i cittadini a pagare quelle che sono le responsabilità degli amministratori. Vogliamo capire quali sono state le procedure che sono state fatte, quali azioni sono state fatte e anche i nominativi dei creditori perché vogliamo vedere se ci sono creditori di serie A e creditori di serie B. Vogliamo conoscere tutto perché questa volta non saranno i cittadini a pagare ma loro si dovranno prendere la loro responsabilità. Il sindaco Alessandrini aveva già chiara la situazione delle casse comunali e oggi è consapevole da un lato del debito prodotto, dall'altra che la non approvazione del bilancio causerebbe lo scioglimento della giunta e il commissariamento della città. Insomma, approvazione tra Incudine e Martello. Attorno a questo bilancio ci sono sviluppate molte polemiche. Tutto nasce da un dato che rappresenta una novità assoluta nella storia della comunità cittadina ovvero il parere negativo reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che è l'organismo di controllo contabile sull'attività dell'ente. Il debito c'è, lo ammette senza parafrasi il sindaco di Pescara ma dice anche il bilancio che si discute oggi è quello prodotto dall'aggiunta dell'ex sindaco Mascia. quella che oggi siede all'opposizione e quella che contesta oggi i suoi dati. Un controsenso che non scompone il neosindaco che con serafica tranquillità in pieno stile keep calm and take control commenta la vicenda alla sua maniera parafrasando parole e musica. Parafrasando il titolo di un celebre film mi verrebbe da dire è la politica bellezza, la politica e tu non puoi farci nulla ogni tanto diciamo che si fanno così un po' eccezioni alla logica ma quello che accade in quest'aula diciamo fa parte anche della adesso io non mi scandalizzo perché non vivo sulla luna fa parte del gioco delle parti di pirandelliana memoria e anche di politica attuazione. Noi comunque riteniamo che si debba mantenere un profilo di attenzione massima e di rigore sulla contabilità pubblica perché l'uso dei soldi della comunità l'uso dei soldi dei cittadini deve essere svolto con maggiore attenzione rispetto ai propri. Dal canto loro quelli del centro-destra affermano che non esistano buchi di bilancio e al contrario attribuiscono la responsabilità della spinosa questione.